Tanto non la prende ragazzi Bello a tutti ragazzi sono Rimoldigno e oggi ragazzuoli siamo qua in un video veramente diverso dal solito Non giocheremo con questo pallone tranquilli lo so che ve lo state già chiedendo E siamo qui in una football challenge insieme a un sacco di moscerini Tra gli ospiti abbiamo Los Amigos che ormai lo conoscete Nicolò, eccolo qua Virgi, Agostino e Cervuz Ragazzuoli in questa sfida andrò a perdere gran parte dei miei soldi Ma potrò recuperare con solo tre tiri alla fine Ognuno ha tre tiri e io tirerò per ultimo Il palo sono 100 euro Crocio dei pali 300 euro E traversa 200 euro Speriamo con i tre tiri finali, visto che sono bravo, l'avete già visto negli altri video Di recuperare tutte le traverse che prenderanno O speriamo che proprio non ne prendano Let's go Ok ragazzi direi di partire Io tirerò per ultimo ovviamente così proverò a recuperare la situazione Direi di far partire Nicolò perché so che è bravo e è quello che temo di più Quindi partirà lui Palla, attivo anche l'altra visuale Aspetta, aspetta, aspetta Attenzione ragazzi Vediamo Nicolò se mi farà già tirare fuori i primi soldi Quanto è traversa? Traverso sono 200, incrocio 300 e palo 100 Allora attento all'incrocio No, 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 non guardo Buono, buono così Andiamo avanti Primo tiro è andato per lui, avranno tre tentativi a testa e io alla fine Che merda Ai, è secondo andato Buono per i miei soldi Ragazzi, terzo tiro di Nicolò Questa volta era buona No, no, se lo fai in Rabona moltiplico per due quello che prendi No Se lo fai in Rabona moltiplico per due quello che prendi Ma vedilo Ma superman non devi stare a scopare a calcio No, non mi capisco No E ho pure sbagliato perché la volevo essere attraversa ma l'ho tirato di merda Adesso Adesso toccherà Al signor Los Amigos Non ho mai visto calciare l'os Neanche adesso in questo momento Neanche l'os ha mai visto calciare l'os Direi che può partire Attenzione ai miei soldi Se la prende l'os Oh Mamma l'ho vista malissimo L'ho vista malissimo Quasi raga Ok ragazzi Secondo tentativo di l'os Lo vedo molto concentrato Senza maschera Senza maschera Ma tanto non la prende ragazzi Terzo tiro di l'os L'os non ci basta Hai preso un incrocio No 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 Bro Irabona Eh però Sangue latino il calcio Lo devo distrarre Oh Eh raga la magia ormai è andata Va bene così Finita la benzina qua E attenzione è arrivato il momento Addi di allenamento Prova a tirare Vedrai che Ah no non vuole fare attraversa Vuole fare palo Vuole fare palo Allora tipo tiro da bowling Attenzione Tiro da bowling Usano strategie qua non vale Ah ma conviene così o così Dipende va bene in tasse modi Come sei più precisa Anche di punta va bene No punta la tira Ci credo Oh Oh Dai voglio riprovarci Ragazzi Sto facendo Pensa al vento Pensa al vento Non è possibile Non contatti Di piatto o no Dai aspetta L'ultimo tentativo Alla mia maniera dai Tira forte a caso Prendi attraversa Putta forte Voglio cacciare sti soldi Dai è quello che succede Che succede Striscia No no che sia questa sicura Potrebbe essere la fortuna del principiante Questa No Non così Però Vabbè Che è sul centro Io direi un bonus E qua c'è tipo GTA Bonus 5 Però è andata bella Boom Sfondare tipo gli e benji la porta Dai Buono per me direi Troppo fortunato Agostino direi Vai attenzione Non va Non va Non va Traversa sono 200 Non da sganciare Ah attenzione Ho detto Se lo faccio Ha detto Sborsa lui quindi Hai fatto visto come tirato Non va Terzo tiro ragazzoni di Agostino Ma cosa stava Non sapevano giocare a calcio L'avevo detto Me lo faccio Si è anche snudato Guarda La riprendo di nuovo E vale anche questo No ma che cazzo No No vabbè Me ne me la cazzo Cosa hai preso attraverso Un 200 Ho perso il conto Quanto eravamo in totale Tu non vale Car miseria Io la vorrei da sempre Quando ho un conto Allora raga Turno di Ceruz Se piglia qualcosa Solamente per Con la maschera Moltiplica per due Raga oggi sono Ma tanto non puoi prenderla Quando non si vede L'ho messa su io Non si vedeva niente Stai già perso tutti i soldi Sto qua i toccamelli Recupero tutti ragazzi Sapete che sono bravo Vai Già tanto se piglia La la parte La oh mamma Primo tiro andato Secondo tiro per Ceruz Con la maschera Oh no Sgravata Ragazzi Terzo e ultimo tiro Di Ceruz Con la maschera Non ce la fa ne E il terzo No Basta Vai che così Poi tocca a me Ci diamo E recupero tutti i soldi Ma lui Ma diventa un po' impossibile Vai Non funziona Io ce lì non ce l'hai Che ragazzi È arrivato il mio turno La possibilità Di recuperare tutto Prendendo tre traverse No neanche 700 euro Devo recuperare Proviamo con Un primo tiro Traverso Almeno recupero 200 Secondo tiro Raga In realtà Siamo pronto 200 recuperati Quindi da 700 Scendo a 500 Ragazzi Ultimo tiro Vediamo Dai Tanto non la becco Tanto non la becco Se la becco Valle doppie Vabbè Beccali il croce Se la becco Valle doppie Se non la becco Mi piaceva più l'acera Va bene Va bene Ma che ti devo tagliare 500 euro Ti vuoi che ti vanno più fare Questa Musica epica Facciamo l'outre Abbiamo perso Abbiamo perso Faffa Abbiamo perso Tutti i soldi Poveri di nuovo È colpa di Wesley È colpa di No io ho fatto È colpa di nuovo È colpa di nuovo W 400 700 100 euro Vi devo dare Eh dai A me che ho fatto L'incrocio Mi è andata bene Vi ho frenato la cena Vediamo che va bene il video A sto punto Allora 100 euro Bella ragazzi È colpa di nuovo